Morata, Manta, Casa e Spadermo Ormai non c'è più niente da fare ragazzi La partita è finita Tutto inutile è stato Serie B contro Ascoli Andiamo a giocare questa partita di Serie B Proviamo ad attaccare Vediamo se questa partita la riusciamo a vincere Perché la Serie B è molto importante Uh, quasi La squadra ci prova Ma che cazzo è? Raga, non ci siamo proprio Non ci siamo proprio con questa squadra Vediamo se riesco a mettere in piedi un po' le cose Vediamo che con questo dribbling posso anche provare il tiro Calcio d'angolo Posso provarci Ancora calcio d'angolo Ci prova di testa Ancora la parata Recuperiamo palla Attenzione Palermo In fase di attacco E si fa rubare palla Ma cosa fa? Mi ha tolto la palla dei piedi praticamente Che passaggi sono questi? Stiamo perdendo contro una squadra in tegna proprio Sono solo Mi ha visto finalmente Mi ha visto E da qui Posso provare No Proviamo ad attaccare di nuovo Vediamo se questa volta È la volta buona Per fare Un gol Recupera la palla per fortuna Sono qua da solo Posso provarci a giro Ed è un gol bellissimo questo Questo è un gol bellissimo Adesso Andiamola a vincere Se magari non dormi in piedi Vabbè Dormiva in piedi quello Passamelo Bellissimo 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 Buon gioco Però era bellissimo Era un'azione fatta bene Guardami che ci sono Ci posso provare Mi toglie la palla Attenzione perché l'Ascoli ci riprova Però la difesa del Palermo È ben presente Palla è recuperata Adesso lo saltiamo Lo saltiamo Eh invece no Questi due no Arrivaci Bravissimo Così ci arrivo io Posso ripartire in velocità Posso ripartire in velocità Tutto aperto Tutto aperto Tutto aperto È incredibile Ci posso provare E me la para Ci posso provare di testa Non ci arrivo Non ci arrivo Non ci arrivo però la palla potrebbe essere ancora nostra Così è Ci provo di nuovo con un tiro a tiro Parata Quindi c'è il primo tempo Nel secondo tempo dobbiamo dare il meglio di noi Si fa parare il tiro sotto porta Ma come si fa a sbagliare una cosa del genere Sono io libero Vediamo se lo salto Vediamo Sì lo salto Lo salto Ci posso Provare Rete 2 a 1 Vediamo se li salto Vediamo Se lo salto Vediamo Eh ce ne sono troppi Sono costretto a passare la palla Ci posso provare C'è troppo centrale Vediamo Vediamo se riesco a saltarlo Passo in mezzo Ci riesco a saltarlo Ma il tiro è centrale Vuole pareggiare Questa partita Un bel cross sulla fascia Ha provato un tiro Da una distanza Attenzione perché c'è il Palermo In zona d'attacco C'è il tiro Se la fa parare Attenzione Per fortuna la difesa Spazzala 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 sta palla Abbiamo vinto 2 a 1 Si rimonta Partita contro Benevento Per fare un call Ne faremo sicuramente Un altro Uh la tiene Bellissimo Attenzione Incredibile Vediamo cosa si può fare Vediamo cosa si può fare In mezzo Niente Nessuno Ci prova di testa Peccato perché l'azione era bella Se lo mette in mezzo Forse Calcio di rigore Perché l'ha toccato con la mano L'ha toccato con la mano Ragazzi Rivediamo il replay Forse li è ribalzato sotto al braccio Vabbè L'arbitro ha detto calcio di rigore E non ce lo prendiamo Bacchiamo Sto calcio di rigore All'angolino Ce l'abbiamo fatta 1 a 0 ragazzi Ci posso provare perché è tutto libero C'è il portiere ancora Finisce il primo tempo Ho sbagliato un altro passaggio Bruttissimo Bruttissimo C'è anche la difesa del Palermo Fallo di mano Ovvio C'è il calcio di rigore L'abbiamo presa L'abbiamo fatto Pareggia Il Benevento Sul calcio di rigore 1 a 1 Il portiere L'ha preso con la mano C'è successo Mi ha sostituito Mi ha sostituito Mi ha sostituito Vediamo che cosa Saranno fare loro Mi ha sostituito Io non ci sono più Invece di correre Guardate cosa fanno Guardate Non si attenderemo anche palla Corri E quello è fallo Quello è fallo Può sentire il cross Quello del Benevento Attenzione ci prova E c'è la rete Passa l'invantaggio Quando manca poco Alla fine Porco di Ma perché Perché questi allenatori di merda Perché Mi ha tolto Mi ha tolto Tutti abbiamo perso Grazie a tutti.